Otto anni fa il terremoto chiudeva le porte della chiesa del Santissimo Crocifisso ad Ascoli Piceno, ma la Pasqua quest'anno è diversa per gli Ascolani, perché la chiesa a Porta Romana è tornata a risplendere e ad accogliere i fedeli. È una chiesa molto amata dagli Ascolani, perché è la chiesa di Santa Maria delle Grazie e dell'icone, proprio perché sull'altare maggiore c'è un'icona preziosa, un'immagine preziosa di Pietro Alemanno, che è pittore ascolano del XV secolo. Un punto di riferimento, sopra l'altare riconsacrato dall'arcivescovo Giampiero Palmieri, il credo cristiano si fa forte con la leggenda del crocifisso miracoloso. Il crocifisso a cui tanti ascolani affidano le loro sofferenze, le loro fatiche, le aspirazioni del loro cuore, i loro sogni, e vengono qui a pregarlo. Non solo per il crocifisso dove confidarsi, la chiesa di Porta Romana è famosa anche per le tombe della famiglia Giosafatti. Ed è famosa in Ascoli anche perché contiene le tombe di alcuni artisti del XVII e del XVIII secolo, molto attivi in Ascoli Piceno. In modo particolare tutti gli artisti, sono almeno cinque, della famiglia Giosafatti. Questa è una delle chiese più importanti del Piceno, costruita alla fine del XVI secolo, i danni dopo il sisma soprattutto al di sotto della cupola, poi sugli archi trionfali e sui setti trasversali. E così, dopo otto anni dalla sua chiusura, questo luogo di culto della città di Ascoli Piceno riacquista il suo status di scrigno di fede, e tra cultura e storia la Pasqua quest'anno è all'insegna della ripartenza.